Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video Oggi vediamo 5 potenziali crack per il prossimo Fantacalcio Prima però, non dimenticate di iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina e delle notifiche Per restare sempre aggiornati su tutto quello che c'è da sapere per vincere il Fantacalcio Per fare una buona asta e acquistare giocatori migliori con le migliori strategie Vi chiedo poi di supportare questo video con un semplice like Che è gratis e una semplice forma di apprezzamento e supporto per i contenuti che realizzo quotidianamente per voi Per chi volesse, ricordo, sono aperti gli abbonamenti a questo canale Si parte da 1.99 e tanti vantaggi, tra cui accesso in anteprima ai miei video Accesso alle mie fasce, accesso al gruppo Telegram riservato agli abbonati E anche risposta garantita in live ai tuoi dubbi di formazione Se vuoi fare un Fantacalcio con me, ultimi posti sia per il Classic che per il Mantra Abbonati a questo canale a livello pro da 3.99, mantienilo per tutto l'arco della stagione E soprattutto prenota il tuo posto per questo Fantacalcio In descrizione trovate il link per registrarvi gratuitamente su Fantlab Tool per l'asta perfetta consigliatissimo perché ci aiuta a dominare l'asta del Fantacalcio Trovate le mie fasce e le mie strategie che saranno però a disposizione solo degli utenti premium Così come le mie fasce ci sono quelle anche di tutti gli altri top content creator del Fantacalcio Quindi utilizzare il tool di Fantalab dà un vantaggio competitivo Importante a chi lo utilizza rispetto a chi non lo utilizza Vi ricordo se vi registrate dal mio link avete 5 euro di sconto già calcolati Qualora decideste di fare la versione premium Altrimenti se siete già iscritti utilizzate il codice sconto Fantavirus per avere 5 euro di sconto E pagare il tool solo 9,99 euro per un anno intero anziché 15 euro Primo potenziale crack voglio segnalarvi un difensore Nadir Zortea Appena arrivato al Cagliari prende il posto come esterno a tutta fascia della corsia destra Considerando che Nicola vuole impostarla so squadra su una difesa a tre Questo giocatore ha le potenzialità per imporsi come un bug di ruolo al Fantacalcio Le premesse per una stagione condita da diversi bonus ci sono tutte Ha una notevole predisposizione offensiva e quando ha avuto spazio lo ha dimostrato Tra Atalanta in cui ha giocato molto poco e Frosinone dove ha avuto continuità Ha realizzato complessivamente 2 gole e 5 assist Mettendosi in mostra con 0.32 tiri in porta partita e 1.26 passaggi chiave per match Le premesse per ripetere almeno questo bottino di bonus al Cagliari ci sono tutte Ovviamente ci sono anche le premesse per migliorare questo bottino Ai nastri di partenza della prossima stagione può essere un valido profilo da bonus Che non si dovrebbe pagare neanche tanto visto che non mi aspetto che il suo prezzo vada oltre il 2% del budget E al momento un quarto slot ma forse anche un qualcosa in più Non andrà schierato sempre ma in determinate partite può essere un giocatore imprescindibile da schierare Ma adesso si passa ai centrocampisti e segnalo Lucas Dacugna del Como Può giocare esterno di centrocampo nel 4-4-2 di Fabregas o all'occorrenza dietro la punta Il classe 2001 è un giocatore di qualità che è perfettamente inserito nel contesto della squadra comasca Che è un contesto in cui lui può dare il meglio di sé Nella stagione della promozione ha impressionato tutti con 7 gole e 6 assist Bottino che può verosimilmente ripeterne la massima serie Visto che è un giocatore molto coinvolto nella manovra offensiva E che lo scorso anno ha realizzato in media 1.46 passaggi chiave per match E tirato in media 0.57 volte in una singola gara Numeri niente male che potrebbero magari leggermente calare Ma che ci lasciano immaginare quello che potrebbe essere il suo impatto al fantacalcio Anche perché il Como sta allestendo una squadra interessante E non da classica neopromossa A tal proposito l'unica preoccupazione che ho è in chiave calciomercato Perché se sulle corsie offensive arriva un nuovo giocatore di qualità Gli spazi si riducono Ma questa non è un'eventualità che possa realizzarsi nel breve periodo Quindi cosa farà l'asta del fantacalcio con Lucas da Cugna? Vediamo innanzitutto dove sarà listato Centrocampista o attaccante? A centrocampo può essere un valido terzo slot da prendere intorno al 4-5% del budget Chiaro che da attaccante la sua appetibilità fantacalcistica cala e anche il prezzo Il suo nome è Abdou Arraoui Un anno dopo di nuovo qui Adesso è un giocatore dell'Elas Verona Affrosinone, ex a suolo Quando ha giocato non ha fatto male Peccato, è stato frenato dagli infortuni Altrimenti, considerando che si pagava un solo credito ad agosto Poteva essere superimpattante al fantacalcio Adesso per lui arriva il cambio squadra Tra le file degli scarigeri, stando alle prime indicazioni giunte dal precampionato Prende il posto di Foloruscio sulla tre quarti Quindi, a meno di novità, avrà modo di giocare molto vicino alla porta Anche se sappiamo, giocatore duttile che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo Cosa aspettarsi a livello di bonus? Direi che un bottino di 3-4 gol è plausibile come minimo Senza trascurare il fattore rigori Non è il primo indiziato a calciarli Ma le gerarchie in casa Verona sono scritte con la matita Quindi possono essere riviste Al fantacalcio, inizialmente, può essere un quarto slot da acquistare tra il 3-4% del budget Una volta uscito il listone mantra Potremmo fare altre e più opportune valutazioni per il mantra Però, ad oggi, mi sembra abbastanza scontato Che possa perdere la M magica che aveva lo scorso anno E, di conseguenza, il suo status di bug Tra i centrocampisti va prestata massima attenzione a Gaetano Oristanio del Venezia Lo scorso anno al Cagliari non ha avuto tanto spazio Ma ha lasciato intravedere qualità interessanti Che potrebbero essere mostrate con una certa continuità nel Venezia Di Francesco, sin da subito, ha dichiarato di voler giocare con la divisa a tre E il 3-4-2-1 sembra essere l'assetto tattico prescelto Con un ristagno che andrebbe a collocarsi nei due dietro la punta Potrà partire largo o eventualmente più centrale Ma al netto della posizione non sembra esserci attualmente una folta concorrenza Che possa impensierirlo in termini di titolarità Senza dimenticare che Di Francesco sa lavorare molto bene con i propri giocatori offensivi Non aspettiamoci ad occhi chiusi il nuovo Sule Ma con le dovute proporzioni e un profilo che ha tutto per far bene la prossima stagione Attualmente su di lui c'è poco hype Nonostante potenzialmente possa essere un bug di ruolo al fantacalcio Credo che lo si possa prendere entro il limite di spesa del 2% del budget E per un centrocampista che ha in canna 4-5 gol e davvero tanta roba Non mi esprimo ancora sullo slot perché penso che si pagherà meno di quanto vale Per concludere l'ultimo nome deve essere sicuramente un attaccante E il potenziale crack in attacco è Moise Ken della Fiorentina Che arriva dalla Juventus E nel nuovo scacchiere tattico della Viola Di palladino ha tutto per potersi imporre come titolare I segnali del precampionato vanno in questa direzione Mi aspetto una stagione positiva per lui Con la doppia cifra di gol che può essere un obiettivo raggiungibile L'ultima stagione in bianconero non è stata positiva Ma questo contribuisce a tenere basso l'hype su di lui È un potenziale terzo slot d'attacco Forse qualcosa in più in leghe numerose E credo che lo si potrà acquistare spendendo il classico 10% del budget Occhio agli infortuni perché qualche gara ogni tanto potrebbe saltarlo Ma non abbiate dubbi su di lui Il dato dei gol attesi per 90 minuti Ogni stagione è sempre positivo Lo scorso anno, nonostante tutto, era di 0.38 Due anni fa 0.57 Insomma, i margini per far bene ci sono tutti Quindi se si presenta l'occasione di acquistarlo Non tiratevi indietro Bene ragazzi, per oggi è tutto Vi aspetto domani con un altro interessante contenuto Della nostra guida all'asta del fantacalcio Alle ore 11.30 Ciao a tutti